Ed Sheeran con il featuring di Farrah Williams, questa era Sing nel nostro pomeriggio, bella carica 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 Carichissima, come carico il nostro Matteo Sambugaro che insomma è con noi per così presentarci anche un nostro amico Perché è un nostro amico dai Sì 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 l'abbiamo già sentito con Alice Sabatini al Festival di Sanremo, adesso ovviamente sta promuovendo il suo album Ma non diciamo altro, tocca a Matteo, buon pomeriggio Matteo Carissime Giorgia e Lila, buon pomeriggio, ieri eravamo alla Feltrinelli Express di Verona in stazione Porta Nuova In occasione della presentazione della nuova riedizione dell'album di Moreno E se siete d'accordo andrei col farvi sentire l'intervista che abbiamo realizzato ieri Perfetto, ascoltiamolo Oggi a Verona splende un sole bellissimo, noi invece siamo in store alla Feltrinelli di Verona con Moreno Doladoni, Reduce da Sanremo Intanto bentornato, una città a cui possiamo dire sei un pochino legato ormai no? Certo certo, poi è bellissimo, è una città che mi ha regalato anche due emozioni stupende Che sono state le due, una volta comparsate, una volta in uno spazio mio all'Arena di Verona Una volta con Alessandra Moroso, una volta per un festival Quindi sono felicissimo di essere qua, oggi per il CD invece ma spero di venire anche presto in concerto Un Moreno che non sente la stanchezza del Dopo Festival perché tu infatti sarai in tour per promuovere il tuo disco in tutte queste settimane, nelle prossime settimane Sì, fino al 7 del prossimo mese siamo in giro Abbiamo giusto un giorno di pausa per penso fare un cambio valide alla fine Me l'hanno concesso ma sono felicissimo anche perché la cosa più bella è proprio secondo me quando vai in promozione con i CD è incontrare il fan proprio di persona Incredibile Sanremo Edition il disco che stai promuovendo che più che una rivisitazione è una riedizione del tuo disco con qualche pezzo e collaborazione in più sostanzialmente Caspita ce ne sono 4 nuove, è proprio inedite, da solista, poi visto che comunque era un CD ricco di duetti E abbiamo anche rivisitato con dei remix i brani che secondo me meritavano di più Invece nella parte di tunes ci saranno altri remix Ecco una domanda così un po' di colore, so che tu sei molto bravo con i piedi a giocare a calcio Ti vedremo da qualche parte con la Nazionale Cantanti a breve Caspita io ci sono in Nazionale Cantanti, faccio parte della squadra, ho fatto già 4-5 presenze con 10-11 gol Bomberino, due volte capitano, sono molto, anzi saluto tutti i ragazzi Ad esempio a Sanremo c'erano 2-3 comunque altri membri, c'era Marco Masini, c'era Alex Britti, Max Brigante Adesso se non sbaglio, meno scritto da poco, ci vediamo a luglio, quindi forse c'è qualcosa in ballo per luglio Io non vedo l'ora così magari sfoghiamo anche un pochino tirando due calci al pallone Tutta la tensione accumulata in questi ultimi mesi Moreno Bomber, vero? Quando è che ti rivedremo a Verona? Quando mi vedete a Verona? Spero di tornare presto perché come ti ho detto è una città comunque a cui sono molto legato E spero che mi ospiterà presto in concerto Grazie mille Moreno